Io sono Stefano, da 50 anni, e la mia benedizione si chiama Parkinson, una malattia che mi impedisce di muovere, ma mi lascia libero il pensiero. E da quando sono malato non ho più confine. Sono anche un poeta, sono un scrittore e sono una persona del libero pensiero. Grazie.